ciao raga benvenuti in un nuovo video io sono Mary e oggi ci chiamo a Piggy con in linea con me ci sta Alessio, oddio aspettando da Piggy Alex, Dalila, Nora, Emma salutate raga come Nora non c'è più uscita? intanto stanno ammigrando l'orso di Anacodisi come non c'è più Nora? si aprita un rumore apriti porta ma dov'è Nora? è Emma ma è uscita ah è Emma? Emma è FK Nora? perché è uscita? ah perché l'avete detto andiamo in estremi privato oddio oddio c'è Enrico dietro dimmi e lo sento vai dai la top apri dove? a chiave rossa mi serve vai qua vai dove c'è quella parte dall'altra parte ok è aperta oddio ah è aperta ahhh 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 non vedo più niente dove va la chiave viola? porca vacca sono morta raga non va la chiave viola ma tu? ma c'è Piggy? sto registrando ma Nora ciao ciao desi mi ha fottuto l'arma sa chi è Piggy? eh il fratello di Emma è Mimba il fratello di Enrico cioè il fratello di Enrico questo video si chiamerà come abolizzare desi ora si vuoi diventare nostra amica adesso si vuoi diventare nostra amica è uscita è uscita no che peccato però raga guardi per te immagini che ti ha segnalato tutti di brutto perché è morta e allora è uscita una di più da bruciare una di più da bruciare sono le parti più belle a giuste la parte più belle a giuste seriamente sono infatti anche ci sono morta mi sa cosa di farlo qualcuno mi dice cosa devo fare devi martello serve credo vai 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 dietro vai 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 ok game over ma c'è qualcuno è Nora è entrata Nora si è buggata ok ragazzi chi sarà Piggy Lali ok siamo salvi e non ci venga è entrata WhatNot è entrata io ho detto non fate le macchine semplici perché se non capitano io capito mal Mary sta registrando Mary sta registrando oddio non so se allora ciao youtube la scuola non lo so fare e non me ne ho idea di come funziona ma che brutta mi sono ok raga chi è che sa fare la scuola? io io chi è che sa fare la scuola che io non lo so io no ok io è vero siamo sfacciati buongiorno è mia poi riesco a prenderla ok chiama chiama azzurra dove va? giù trova la porta giù ok sopra ci sono le chiavi eh vedete qua c'è una chiave non so cosa serve piglia si è svegliata non so dove nasce la sento camminare Lali potresti risparmiarmi eccola attento Alessio attento Alessio attento Alessio no no dai Mariano Nora scappa allora non mi sente mi sto facendo giro giro donna ma la scappa perché si firma qui io non so esattamente dov'è sta girando tutto il caso cosa serve cosa c'ha in mano? una chiave verde eh verde sta giù provata con me Nora c'è ancora la chiave azzurra ma vi diremmo dove va l'ingranaggio? l'ingranaggio vicino alla porta con l'acqua cioè vedi l'acqua sempre sotto aiuta mi sono a boccato non trovo niente qua c'è qualcosa la verde è stata usata l'ingranaggio giallo serve a qualcosa mi l'ho usata io la verde l'ingranaggio giallo serve a qualcosa nella mappa sì per curiosità sì per completarla dico sì sì buono lo so mi trovo un tubo però la chiave inglese dove va? allora la chiave inglese vedi delle po' delle delle stanze ho capito ho provato ma Emma sei morta ma non parla più ragazzi ragazzi che bel video stiamo facendo nessuno più parla rin alessio dove sei? scendi giù sono giù ma ci sta sono le scale vieni da me ecco qua qua che giova da solo qua 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 e poi giù serve metterla in un modo eh ma giù poi ce l'ha quando riesco a scegliere no infatti rimanere dove ti ricordi ok ok ho sbloccato chiave bianca giù ok è una porta io ho il coso adesso la apro ho il coso il grande allenaggio ma in tutto questo Daryla dov'è? non lo so io ho paura ho paura ho paura Daryla la stiamo messa in casa io sto girando è tutta il caldo dove hai messo la chiave inglese? è nella palestra appena entri è a lato ok ho paura solo che è stata una notizia io ho visto Daryla dentro una stanza no si sono presi eccolo è stata una notizia io dopo di questa devo andare ok Nora soffa un cappero quindi ferma io sto a far giro giro di uno perché non trovo guarda che dove c'è Nora c'è un caldo è nella stanza soffa giro ecco ho trovato ma stizio di stoccavano facendo un colpo qui non c'è un tubo però sopra c'era la chiave viola che doveva stare ancora inutilizzata vabbè la viola la viola la viola c'è la pistola no io non c'è la aspetta ah c'è la pistola allora è inutile lasciamola chiusa ok è ripartita la gialla è stata usata oh mio dio sento Nora sento Rari la voglio dire eccola però prendo la rossa vediamo se Nora l'hai presa? ho preso quella rossa tu prendi la gialla ma io c'ho l'altra quale c'hai? la bianca la bianca va sotto? no 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 prendi la bianca vai sotto vai sotto e vabbè serve importante dimmi dove serve la chiave gialla gialla non la ricordo trovate no perché qualcuno si è messa davanti alla chiave ok ok raga siamo qua si dove la porta? quasi si manca solo la bianca manca solo la chiave bianca lei vieni scendi corri scendi penso io hello hello fai presto lei è qui dove sei? fighi sta perfetto vieni la chiave bianca fai presto dov'è? dove vai? dove devo andare? qui vieni da me dove sei? dove sta la palestra? ok è uscito dalla palestra? non mi vedi? sono deciso alle scale oddio c'è picchi mi presta annaccia le che penso vabbè guardi non ci dirà take mary ah è uscito ma che scapperi me lo vuoi dire? che stai scendendo? non mi prendi? non mi hai visto non mi hai visto non mi prendi oh siamo usciti ragazzi no mi manca solo un'ora che si è bloccata lì chi è questa? holy albatross ma che cacchio è? è una compagnia di noti frascendi ma chi è? no fra non scendo ma chi è? ma chi parla con te? vediamo un'ora che sta facendo un'ora è aperta eccola andiamo vediamo come vederci sotto a tre due uno Nora si è sdoppiata come me qual è la vera Nora? non la saprei mai questa questa qua mancano pachi minuti non ce la fai Nora allora è chiuso non puoi passare abc abc ma ti fai i fatti tu ma devi saltare quanti siete simpatici ragazzi incontrare persone nuove non so in che modo strano però uscirà che raga grazie per averci seguito spero che questo video vi sia piaciuto stacco perché adesso devono andare tutti via quindi chiudiamo il video qua adesso devi andare via vabbè sono Alessia della meia allora facciamo un'altra partita e qui chiudiamo ce ne ho anche salutato se ne è andato così facciamo un'altra mezza partita e poi chiudiamo facciamo la mappa per chiedere il video di nuovo ragazzi ok facciamo la mappa più lunga che ci vuole un'ora per finirlo ma chi è questa? ciao mamma ok ok non ok ok non io sono zio pippo piacere no fra non ci vuoi di freti chi si chiama soffi abc abc soffi ok è ora di mandare ciao dai dai lì l'ultima partita anche se questa non fanno soffare quindi morirò prima del tempo stavo già morendo stavo già morendo ha detto morirò prima del tempo bu stavo morendo vedi sta cacca questa? no dai cosa stiamo a... ma qua fa un po schifo lestamente cioè se si fingi fa schifo e per il resto va bene perché sei svegliata ecco siamo morti let's go! allora dov'è la tizia che era prima? oddio che è morto paura l'unico o l'altra abc 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 è morta è morta? tu l'hai detto? è qua è morta? morirà? no no l'ho messo veramente ammazzata io sento... sta arrivando a George no perché devo ammazzare abc abc dai andiamo giù no questa mappa non va a che fare c'è la preferita di Nora manco sta facendo un tubero però è perché aspetta che abc abc muore la faccio fuori? abc 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 sai dove va la pozione? dove va la pozione? qua mi serve Nora qua mi serve Nora questo va qua a andare no non va qui questo va qua a andare dove va la pozione? Nora dove sei? che mi servi? ho due pozioni adesso ma non so dove vanno ah qui è giusto ora mi vado ora mi vado scusate che ho bloccato con abc 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 adesso vado cosa devo fare ma che casa mia ma per questa voce che è sporca veramente carina questa musica cosa devo fare? non è una becca musica carina è una musica carina una musica triste dove va il soldino? John soldino dove vai? no non sento più sono morta vabbè raga grazie per avermi seguito iscrivetevi al canale e tappate la campagna e lasciate un like al prossimo video bella ciao